Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. L'addio di Anita ha lasciato il segno su Alessio, il suo attuale compagno, ma anche su Rosie, sua amica e confidente. Nonostante sia passato poco tempo dall'eliminazione della giovane, la chef già sente la sua mancanza, Alessio riflette sulla personalità forte della fidanzata. Nessuna, prima di lei, era riuscita a metterlo a tacere. Anche se la loro somiglianza li porta allo scontro e alla mancanza di comunicazione, lui non se ne dispiace. Secondo Rosie, entrambi stanno procedendo con cautela per conoscere l'altro. Prima di mostrare il vero carattere, c'è un periodo di frequentazione. Devono imparare a vedersi anche nei momenti peggiori per capire i propri limiti. «Posso imparare molto da lei», commenta il ragazzo, rendendosi conto di non aver mai detto nulla di simile prima. Nonostante la giovane sia ancora un po' immatura nelle relazioni, l'infatuazione di Alessio è forte. Non si tratta solo di attrazione fisica, ma di vero interesse per Anita. Le sensazioni sono positive, ammette Alessio, sebbene abbia avuto paura all'inizio. Secondo Rosie, nella vita, l'importante è vivere a pieno ogni emozione, e sembra che Alessio sia pronto a farlo. E voi cosa ne pensate della coppia falsone-olivieri, saranno davvero fatti l'uno per l'altra? Lasciate la vostra opinione nei commenti e, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.